Mercoledì sera, a causa di una caduta di calcinacci da un balcone, la polizia municipale ha bloccato e chiuso la via Red Italia all'angolo con via San Calogero. Tempestivo è pronto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e ripristinato la regolare viabilità, bloccata dalle ore 20 circa. Non si sono registrati danni a cose o persone, ma solo tanto spavento per alcuni pedoni e automobilisti che si trovavano nei pressi dell'accaduto.